Benvenuti in Fossil. Fossil è un marchio di orologi americano fondato nel 1984 da Tom Kartsotis, a Richardson, in Texas. Il marchio è noto per la produzione di orologi di moda e accessori, tra cui occhiali, borse e gioielli. Fossil vanta una vasta gamma di orologi, dai modelli classici a quelli più moderni e alla moda. Ogni orologio è realizzato con materiali di alta qualità, come l'acciaio inossidabile e il cuoio, e dotato di movimenti a quarzo di precisione. Il marchio offre una vasta selezione di orologi da uomo e da donna, con una varietà di stili e design per soddisfare le esigenze di ogni consumatore. Fossil è noto anche per la cura dei dettagli e l'attenzione al design. Il marchio collabora con numerosi designer e artisti per creare orologi unici e innovativi, spesso ispirati alla moda e alle tendenze attuali. Questo rende i prodotti Fossil perfetti non solo per chi cerca un orologio funzionale, ma anche per chi vuole esprimere il proprio stile personale. La sostenibilità ambientale è un altro aspetto importante per Fossil. Il marchio utilizza materiali sostenibili e riduce gli sprechi di produzione per minimizzare il suo impatto ambientale. Inoltre, Fossil ha lanciato una linea di orologi ibridi, che utilizzano l'energia solare per alimentare il movimento dell'orologio, riducendo l'uso di batterie. Questi orologi sono non solo ecologici ma anche convenienti, poiché non necessitano di ricariche frequenti. Fossil offre una vasta selezione di orologi, dai modelli classici e semplici a quelli più elaborati e alla moda. Tra i modelli più popolari ci sono gli orologi da polso per uomo, come il modello Grant, caratterizzato da un design elegante e raffinato, e gli orologi per donna, come il modello Jacqueline, caratterizzato da un design minimalista e femminile. Inoltre, Fossil offre anche una vasta selezione di accessori, come occhiali da sole, borse e gioielli. Questi accessori sono perfetti per arricchire il look e completare il proprio stile personale. In conclusione, Fossil è un marchio di orologi americano noto per la produzione di orologi di moda e accessori di alta qualità. Grazie alla sua vasta selezione di stili e design, Fossil è in grado di soddisfare le esigenze di ogni consumatore. Con la sua attenzione alla qualità, al design e alla sostenibilità ambientale, Fossil è sicuramente un marchio da tenere in considerazione per chi cerca orologi di alta qualità e di tendenza. Se stai cercando un orologio di moda e accessori di alta qualità, non esitare a dare un'occhiata alla vasta selezione di prodotti fossil.